salmone con cipolle all'agro capperi fritti e origano fresco pulite le cipolle e tagliate le affettine non troppo sottili mettetele in una padella e copritele con acqua fate bollire per 15 minuti eliminate l'acqua e aggiungete lo zucchero e l'olio quando comincia soffriggere aggiungete l'aceto fate evaporare il liquido a fiamma vivace e regolate di sale mettete i capperi in un setaccio e sciacquate sotto acqua corrente asciugate bene e infarinate eliminate l'eccesso di farina e friggete scaldate una padella con un filo di olio e cuocete i filetti di salmone due minuti per lato girando una volta salate e insaporite con le cipolle aggiungete i capperi fritti e l'origano è un secondo buonissimo e coloratissimo ed è su belliepronti.it